Rompersi il crociato anteriore è anche questione di genetica. Ebbene sì, rompersi il crociato anteriore è anche questione di genetica. L'ho dimostrato uno studio che mi è capitato tra le mani recentemente, secondo me molto intelligente, fatto molto bene, che oggi voglio mostrarti. Quindi bentornato e bentornata. Oggi andiamo a vedere come mai anche la genetica centra nella, diciamo, lesione del crociato anteriore. Come al solito vi ho preparato delle piccole slide per farvi un piccolo riassunto. Vi ricordo che potete trovarmi non solo sul canale YouTube dove vi chiedo di iscrivervi per rimanere sempre aggiornati sui miei nuovi video e vi chiedo di mettermi un like se questi e gli altri video ti sono piaciuti. Ho un sito, ho un canale Telegram aperto da poco dove metto dei contenuti inediti e ho una pagina Instagram. Allora, rompersi il crociato anteriore, noi tutti sappiamo che prevede dei fattori di rischio. Ci sono dei fattori di rischio comuni per rompersi il crociato anteriore. Quali sono? Giocare o comunque praticare sport su superfici di gioco con alto altrito, come ad esempio l'interfaccia erba o campo sintetico e scarpe da calcio o la palestra giocando a pallavolo, eccetera, eccetera. Sicuramente il tipo di calzature, la velocità e la rotazione, il cosiddetto pivot, ossia la rotazione della gamba dell'arto inferiore tenendo il piede come perno fisso. E poi atterrare da un salto, soprattutto atterrare da un salto con un certo tipo di atteggiamento del ginocchio che in genere è in valgo extra rotazione. Questi sono i fattori di rischio, diciamo, classici per la lesione del crociato anteriore. Ma queste cose noi non possiamo controllarlo, perlomeno possiamo allenarle, alcune di queste, ma non possiamo controllarle in toto. Poi ci sono dei fattori legati invece alla genetica. Questi sì che purtroppo non possiamo controllarli in nessun modo perché li trasmettiamo, ci vengono trasmessi e a nostra volta li trasmettiamo. Che sono la geometria del ginocchio, cioè come è fatto anatomicamente il nostro ginocchio, la distanza tra vari punti del femore, della tibia, la lunghezza di un legamento, quanto è obliquo rispetto all'altro, eccetera, eccetera. L'allineamento degli arti inferiori. Abbiamo un ginocchio varo, abbiamo un ginocchio valgo, abbiamo un ginocchio normo allineato, abbiamo un femore antiverso, tutte queste cose qua. Tra l'altro ne ho parlato in precedenti video, soprattutto sulla lassità legamentosa e sull'allineamento legamentoso. Puoi andarti a cercare i precedenti video. E poi la lassità legamentosa, ossia quanti nostri legamenti non si oppongono a certe forze. Ebbene, che cosa è stato fatto in questo studio, che ti mettono qua sotto nella descrizione, se vuoi andartelo a approfondire, leggertelo e studiare un pochino meglio. Sono stati presi dei gemelli, e questi gemelli sostanzialmente sono stati analizzati. Ok, è stato utilizzato il registro, diciamo, scandinavo, dove di Scandinavia in Norvegia, Svezia e via dicendo, e Finlandia e gli altri paesi del nord Europa hanno un registro dove segnano sostanzialmente qualsiasi cosa. Quindi hanno questo enorme database. È stato preso, quindi, dei gemelli, 88.000 gemelli svedesi, e sono stati studiati alla lesione del crociato del primo, la probabilità che si lesionasse il crociato il secondo. Sono stati studiati nei 30 anni successivi. Ebbene, siccome sono gemelli, il patrimonio genetico è abbastanza sovrapponibile, e che cosa è successo? Il risultato è stato questo qui. Circa il 70% di possibilità che alla lesione del crociato del primo gemello se lo rompesse anche il secondo gemello. Secondo me è un dato interessantissimo questo, perché, tanto per capirci, l'ereditabilità complessiva per il tumore, per ereditare un tumore, è intorno al 33%, poi ovviamente dipende da tantissime cose, ma questo è un numero indicativo, quindi l'estremo da una parte, e tanto per capirci, la possibilità di ereditare il colore degli occhi è intorno al 98%, quindi un 70% si colloca nella porzione medio-alta della scala, dell'ereditabilità della possibilità di rompersi il crociato. Allora, questa cosa qua, che cosa uno potrebbe dire, sì, ok, ma che cosa mi interessa? Non ho un fratello gemello, non ho una possibilità di capire se ho anche una genetica della lesione legamentosa. Sì, è vero, ma è una cosa molto interessante, perché bisogna mettere anche la genetica, anche lo studio della familiarità, dei fattori di rischio che noi sappiamo, della geometria del ginocchio, dell'alessità legamentosa, eccetera, nell'anamnesi di una persona che magari pratica sport o che magari ha in famiglia una lesione del crociato anteriore. Sono pazienti che vanno studiati ancora meglio, sono pazienti che vanno preparati ancora meglio. Ancora prima di arrivare dall'ortopedico, mi riferisco soprattutto ai preparatori atletici, ai fisioterapisti, e vi dicendo, se c'è un'anamnesi familiare positiva per le lesioni del crociato anteriore, per l'assità legamentosa o per una particolare caratteristiche geometriche che trovate qua nello studio se volete andarvelo a vedere, bisogna a maggior ragione investire tempo sulla prevenzione della lesione del crociato anteriore. E ormai la prevenzione del crociato anteriore esiste, si conoscono le strade che bisogna intraprendere per diminuire il rischio di lesione e quindi, secondo me, questo è un dato fondamentale. Bene, con oggi volevo solmente trasmetterti questo piccolo, cosa che ho anch'io scoperto recentemente. Noi ci vediamo con i prossimi video, io ti saluto, ciao! Grazie!